Seconda Epistola di Paolo Apostolo ai Tessalonicesi Capitolo I Paolo, Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio nostro Padre, nel Signor Gesù Cristo. Grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signor Gesù Cristo. Noi siamo in obbligo di rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli, come è ben giusto che facciamo, perché cresce sommamente la vostra fede e abbonda via più l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri, in guisa che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio, a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che voi sostenete. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, affinché siate riconosciuti degni del regno di Dio, per il quale anche patite. Poiché è cosa giusta presso Dio il rendere a quelli che vi affliggono afflizione. E a voi che siete afflitti, requie con noi, quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della Sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non obbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù, i quali saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della Sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei Suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, e in vie pure, perché avete creduto alla nostra testimonianza dinanzi a voi. Ed è a quel fine che preghiamo anche del continuo per voi, affinché lì Dio nostro vi reputi degni di una tal vocazione e compia con prontezza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, onde il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del Dio nostro e del Signor Gesù Cristo.